Il migliore dei killer è Tornato. Sono io il cattivo. Dal regista di Casino Royale. È una bambina. Sono già tre uomini uccisi con la stessa arma. Che cosa vuole quest'uomo? Giustizia. Sta interferendo con un'indagine internazionale. Sta eliminando i trafficanti uno a uno. Mai infrangere le regole di un killer. Devono essere puniti. Liam Neeson. Pensavate di darmi la caccia? Ma ero io che davo la caccia a voi? Memory. Dal 15 settembre sono al cinema. Ma ero io che davo la caccia a voi?